Ciao a tutti, oggi realizzeremo insieme un segnalibro a tema dell'albero della vita. Per farlo utilizzeremo la tecnica dell'acquarello. Come base ho deciso di utilizzare una carta ruvida a 200 grammi e ho tagliato una striscia di 5 centimetri. Su questa striscia sono andato a fare un'area celeste con l'acquarello e un'area marrone tipo terra. A presto. Grazie a tutti. Per realizzare il disegno dell'albero sto utilizzando una penna multicolor Osama, logicamente soltanto il colore nero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi piaceva l'idea di utilizzare nello sfondo due colori e l'albero invece non colorarlo ma lasciarlo soltanto a penna. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.